Una scuola, numerosi esempi di successo. Con l'iniziativa Un'Emigrazione Speciale per Iti Minerari dall'Agordino al Mondo, l'Associazione Bellunesi nel Mondo ha voluto riscoprire la storia dell'Istituto Minerario Follador di Agordo e dei suoi diplomati. Un progetto finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito della legge per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero e portato avanti in stretta collaborazione con l'Associazione per Iti Industriali Minerari, cofinanziatrice e in partnership con Provincia di Belluno, Unione Montana Agordina e Istituto di Istruzione Superiore Follador de Rossi. Il progetto è partito nel mese di luglio e ha portato alla realizzazione di un archivio audiovisivo da mettere a disposizione della comunità contenente testimonianze di ex studenti su una serie di argomenti, dalla scelta dell'istituto alla formazione alla successiva carriera professionale in Italia e all'estero. Il materiale è visionabile nel canale YouTube Bellunesi nel Mondo, sulla pagina Facebook dell'Associazione e nel sito web del Centro Studi sulle migrazioni all'Eteia, dove è stata creata una specifica sezione dedicata proprio ai periti minerari nel mondo. La registrazione delle testimonianze ha inoltre permesso la messa a punto di un libro pubblicato da bellunesi nel mondo edizioni che riporta in forma scritta le storie acquisite attraverso le interviste. L'istituto minerario di Agordo ha rappresentato e rappresenta tuttora una delle scuole di settore più importanti a livello nazionale, commenta il presidente dell'ABM Oscar De Bona, un'eccellenza venete-bellunese che negli anni ha formato oltre 2.000 tecnici apprezzati in Italia e all'estero, persone che si sono impegnate nel lavoro alle più diverse latitudini e in quasi tutti i settori della tecnica, dalle cave alle miniere, dall'estrazione petrolifera alle grandi opere civili, dagli esplosivi alle spedizioni scientifiche e alla gemmologia, raggiungendo le più alte vette nei rispettivi campi professionali.